Questa è l'esperienza degli apostoli che sono passati dalla tristezza della morte di Gesù alla gioia della risurrezione. Però noi crediamo che sia anche la nostra esperienza. Allora qualsiasi dolore, qualsiasi fatica, qualsiasi abbandono, qualsiasi disperazione, sappiamo che finirà e la nostra afflizione si cambierà in gioia. E noi dobbiamo un po' essere come la donna che partorisce, ma sappiamo che verranno dei frutti, che anche il nostro dolore ha un senso, come ha senso il dolore di una donna che partorisce, perché porta alla luce un bambino. Allora crediamo che Gesù ha trasformato ogni dolore, ha trasformato ogni sofferenza e ha dato ad ogni dolore, ad ogni sofferenza un senso, un significato. Porta dei frutti, porta qualche cosa di bello, di più grande, e allora questo ci dà la forza di andare avanti. E sappiamo che la nostra afflizione si cambierà in gioia. Grazie.